è finita la punizione di fagioli è finita ha passato il purgatorio oggi abbiamo avuto dimostrazione che fagioli è deve essere e soprattutto lo dovrà essere in futuro un titolare della juventus ce l'abbiamo fatta giovedì gioca fagioli giovedì al posto di miretti gioca fagioli in quella che sicuramente o molto probabilmente sarà la partita più importante della stagione a patto che poi non ne andrà a giocare un'altra il 31 di ma è finito il purgatorio di fagioli è andata speriamo no adesso è scomparso per qualche partita a causa probabilmente di qualche errorino oggi che di fatto col suo gol ha deciso la partita salvo poi il 2 a 0 di bremer abbiamo pulito il melo del purgatorio spero no spero anche se onestamente col fatto che ha giocato 90 minuti un pochino di paura ad onor del vero ce l'ho perché magari so che era più 90 minuti li ha giocati e giovedì sarà titolare danilo idem con patate onestamente spero anche gatti e bremer bremer se starà bene quasi sicuramente sì gatti c'è da lasciare il beneficio del dubbio perché magari ti dà più affidabilità alexandro che l'abbiamo visto anche nella partita d'andata l'affidabilità che ti può dare alexandro però spero che questa fase di purgatorio appunto sia passata inaugurio detto questo 2 a 0 contro la cremonese e penso che una giornata migliore legandomi un pochettino al video che ho fatto ieri dopo il risultato del milan non ci poteva essere perché di fatto la lazio ha pareggiato in casa contro lecce l'atalanta e il milan hanno perso contro salernitana e spezia la roma non ha vinto contro il bologna quindi siamo di fatto a più 8 dal quinto posto e a più 10 dal sesto e prima che la juventus scenderà nuovamente in campo lunedì contro l'empoli sapremo i punti a meno che non decidano di fare una porcata stile coni che prima c'è l'udienza poi poi vediamo un attimino come va la juventus contro l'empoli poi eventualmente potremo rimodulare a nostro piacimento dato che poi i punti a disposizione saranno effettivamente sei quelli contro il milan e quelli contro l'udinese che poi dovrai effettivamente anche andare a fare assolutamente ci mancherebbe però insomma più 8 dal milan e più 10 dalla roma in una giornata dove di fatto a parte l'inter di quelle che si contendono con te la zona europa non ha vinto nessuno nemmeno per sbaglio infatti non lo so se magari oggi allegri la ragionata come me ieri no nel senso è curioso sarebbe curioso vincerle tutte e quattro per vedere cosa chi ne si andrà di fatto ad inventare perché guardando la formazione di oggi c'è praticamente non dico tutti i titolari ma ben poco ci mancava giusto locatelli magari ha rifiatato no perché tanto bene o male sì se vogliamo dire alexandro diciamo alexandro scezni va bene costici ok purino ci mancherebbe costici e tutto l'anno che ti fa avanti indietro 90 minuti e ultimamente non è che sia proprio fresco come una rosa e ci può stare in compenso però abbiamo visto un buon chiesa abbiamo rivisto gatti bremer e danilo che secondo me è la miglior difesa possibile da schierare ed è vero che insomma la cremonese non è che può essere considerata no un'avversaria in grado di dimostrare a tutti gli effetti la forza della difesa però comunque è la migliore possibile e oggi hai rischiato neanche zero meno di zero però mi ha stupito un pochettino no la formazione dice cazzo fortuna che giovedì abbiamo una semifinale europea di ritorno no tra l'altro in trasferta dove di fatto si è obbligato a vincere guardando la formazione che scese in campo ho detto boh evidentemente vuole vincere a tutti i costi non lo so che che male non fa poi purtroppo tutti quanti abbiamo avuto gli occhi a forma di cuore quando abbiamo visto Pogba titolare dal primo minuto solo che dopo 20 si è fatto male si potrebbero aprire tante parentesi tanti discorsi ma di fatto c'è un grande dispiacere un dispiacere enorme soprattutto perché poi nelle ultime partite l'avevi visto fare sempre più minutaggio avevi sempre di più la parvenza di un Pogba che è realmente Pogba non la sagoma comunque lontana dal Pogba che ci ricordavamo ci mancherebbe altro però avevi la sensazione no che quando il pallone arrivava a lui succedeva sempre un qualcosa che raramente eri abituato a vedere nell'ultimo periodo solo che oggi tempo di fare un cross dopo 20 minuti dal suo ingresso niente proprio subito si è messo a terra si è messo a piangere questo probabilmente più che per il dolore per la situazione generale insomma e dispiace dispiace veramente tantissimo e probabilmente la sua stagione è pressoché finita a patto che sia realmente iniziata la stagione 2022 2023 di Paul Pogba con la Juventus sperando che non sia nulla di particolarmente grave con la speranza che no almeno per la prossima di stagione ci possano essere delle garanzie tra virgolette fisiche in più ovviamente per quanto possibile però io onestamente non mi sento di dare particolari colpe per oggi anche perché veramente se dopo 20 minuti succede quello che succede diciamo che se fosse entrato al sessantesimo al Sanchez Pizquan con una roba simile e all'ottantesimo dovevo uscire per assurdo forse sarebbe stato addirittura peggio perché oltre il danno la beffa e la beffa delle beffe ti saresti pure bruciato un cambio con il rischio magari di non averne neanche un altro a disposizione robe di questo genere ma se stiamo qui a cincischiare per un Pogba titolare o meno il 14 di maggio vuol dire che un problema di fondo reale c'è che probabilmente c'è davvero a questo punto perché purtroppo la situazione sembra alle volte anche quasi fin troppo palese però di fatto questo è per quanto riguarda la salernità e la salernità nella cremonese cosa c'è da dire con tutto il bene del mondo se sono penultimi un motivo c'è e oggi si è ampiamente visto oggi si è ampiamente visto anche se boh c'è effettivamente hanno un difensore centrale che potrebbe tranquillissimamente giganteggiare al Real Madrid perché Chiriches oggi boh ha salvato tutto ciò che di vago si potesse salvare oggi Chiriches sembrava Sergio Ramos dei tempi d'oro sembrava uno dei difensori centrali più forti mai visti nella terra va bene così di solito ci capitano ste robe in passato magari coi portieri sto giro c'è capitato con il difensore centrale di turno che magari in tutte le altre 30 passapartite ha fatto che gara spruzzo e questo può stupire veramente fino a una certa e ne prendiamo semplicemente atto quando finisce 2-0 poi che poteva essere il terzo però c'era la punta del cazzo di Milik in fuorigioco e che cosa ci dobbiamo fare purino a un 45 di piede se avesse avuto un 40 sarebbe stato regolare ci possiamo far poco purtroppo detto questo allo stesso tempo è sempre pur vero che giovedì se realmente vuoi passare il turno e se realmente ti vuoi giocare una finale europea per poi eventualmente anche proprio andarla vincere serve un qualcosa di diverso perché comunque nonostante tutto un'ora per segnare alla cremonese un primo tempo i limiti dell'imbarazzante se non anche ampiamente superato e sicuramente se magari contro la cremonese in casa può bastare per poi andare a trovare una vittoria tutto sommato agevole ci mancherebbe ecco in una semifinale europea contro il Siviglia in trasferta servirà ben altro e probabilmente tutti quanti voi sarete in un qualche modo d'accordo con me quanto meno spero e vedremo non lo so vedremo anche perché poi tanto spesso e volentieri ci facciamo aspettative sul tipo di partita che dovrebbe fare la Juventus con l'augurio che poi la faccia davvero poi puntualmente c'è il fischio iniziale e siamo completamente prima smentiti e poi delusi la consapevolezza però che servirà un qualcosa di diverso c'è e ci mancherebbe altro vedremo quella che sarà di fatto la loro volontà perché nelle nostre possibilità c'è l'ipotesi di andare a giocare una finale le capacità volendo ci sono la qualità figuriamoci tocca vedere anche in quello che sarà l'approccio per arrivare a quella finale detto questo nulla io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve